E' bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nome, sono Zui Zui Mam Ed oggi siamo in un nuovissimo video dell'app mod di Clash Royale Iniziamo subito Ok ragazzi, io stavo iniziamo, eh, ho giocato da un bel pezzo, stavo già giocando Cioè guardate le leggendari che ho, vabbè ovviamente è un server privato ragazzi Non so, non vi so dare il link, non sono capace a mettere il link in descrizione Se me lo dite magari ve lo, vi metto il link in descrizione E ve lo installate, fate, giocate quanto vi pare Perché, perché ci avete le cose illimitate, capito? Ecco appunto, quindi, eh, ci avete le cose illimitate Perché, quando io vado, allora, guardate, 642.000 Allora, 642.287 di oro Ora vado a fare una battaglia E mi lo dà, mi dà pure le gemme Guardate ragazzi, aspettate Ok, e questo qua è un app mod speciale Che quando fa le battaglie non si blocca Ehm, e c'è, puoi aprire i poli supermagici all'infinito Ok, vabbè facciamo una bella battaglia Allora, ma perché? Allora, io non so perché Ma, eh, questo deck Cioè questo qua mi copia il deck Ehm, non si può facendo Ok, vabbè Ehm, madonna, deve sta' zitta minone Vabbè, raga Io cerco di non farvela sentire E, che bella Che fa' farlo, madonna Ok, dai, dai, dai Dai, dai Dai, dai Dai, su, 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 dai Dai, dai Dai, dai E dai, e dai Ho fatto la torre Vabbè C'è la stigione Lì alle 3 Vabbè Allora ragazzi Ora andiamo a spacchettere Vedete Prima ce ne avevano 647 Mira, no? E adesso ce ne ho 894 Quindi non c'è bisogno neanche che lì Cionco Vabbè ragazzi Ok Spacchettiamo tutto Spacchettiamo Ok Va bene Va bene Va bene Allora Andiamo all'ultima carta Andiamo all'ultima Della leggenda No 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 Ok ragazzi Consigliatemi Consigliatemi dei mazzi Come vi pare Ditemi Nei commenti Quale mazzo volete Perché Va bene Lo stesso Per me Vabbè Allora Apriamo il baule Supermagico Ok 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 Andiamo a girare Così Non la di più Vabbè 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 Allora ragazzi Io Vi saluto qui E Ci vediamo sempre Al prossimo video Di questo Up Mod E di Che Storia Normale Arrivederci Laga Bella Ciao 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 Ciao